Piazza Milano Piazza Milano diventa punto di riferimento per il Lido Ovest di Jesolo. Da parcheggio in asfalto diventa salotto grazie ad un progetto che parte otto anni fa e che è stato realizzato con l'investimento di circa 4 milioni di euro. Un taglio del nastro tanto atteso, dice l'assessore Bergamo, che dà la dimensione delle lentezze della burocrazia italiana. Una piazza che ha un investimento complessivo di 4 milioni e 700 mila euro tra opere pubbliche e opere private. Al di sotto della piazza 140 box auto interrati che vengono venduti per andare a finanziare l'intervento in superficie. Quindi un motivo di grande orgoglio e soprattutto la realizzazione di un nuovo salotto per la nostra città e sicuramente un punto di riferimento per tutto il Lido Ovest. Come a happen Come a happen